Mangia pecorelle Ho entrato uno E' appunto, ma andate ad entrare? Dai, si, dai Bomb la ciappini Vado in casetta cieco Cazzo, Punisher Occhio, oh Hai fatto la lasciata? Si, la lasciata come il maiale Si Madonna, l'ho stunnato come un coglione Si, ma con la bomba non sali sotto a Puffo Eh, lo so Jason, stai cagando? Mi faceva cacca sui buoni I shall move Mazzarini Morto Mazza Ho preso quello eletricista Eh, lo so Lo prendo io No, ma che culo E' solo eletricista Ma che culo, vai 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 Mazzarini Giardini Black Vai a plantare Jason vai avanti te va Capito tu che c'è Se ce la puoi Cazzo, sta lì Buona Aspetta Vado in B va? Si, si Hai visto? Non ce l'ha da stare? Flash Buona, buona Che cazzo faceva questo? Stava cagando Ma tu, mi ha messo la password dentro? Tutti quello, basta, c'è la PCV qua password ha messo, non per dire però Insomma Pazio, muretto Posso raccogliere il cecco da terra Che si, prendi? Nooo Non hai lasciato il cecco Curetto Eh, se viene un po' più avanti lo prendo Secondo, te lo prendo io, te lo prendo Sotto ha preso Guardi sopra i bidoni? Ok, salgo sopra Planna, planna, planna No, ha portato il terzo piano Planna, 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 vieni, eh Ci sono io adesso No Vieni, guardi, col ping a 90 riesco a giocarmola Col ping a 90? Eh Doppio senso Eh, vabbè Con scorte la 90 Occhio, colonne di Ercole Vai, rossi Vai, rossi Cazzo, rossiato, ult E' su qui Vencato Il nostro spawn Lo so Lo so Fa giro da dietro, puffo Vabbè L'hai visto, esce adesso Arriva da destra Su! Sì, qua dentro Minchia Gesù Non l'hai visto nessuna cosa Non l'ho visto No, lo stavo aspettando Sempre in pre-file Uccide Sempre Oh, allora io lascio Porco di... Non facciamo cambio Annaggia Cristo Io vado 3 Vado.. Vado.. Si vado... Albrecht Il mio videos, come hai nato Vado.. 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 Il grosso Vado.. 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 Vado... Vada.. Vado.. Vado sopra Ci do è uno che pizzo di là Nao uno sopra porco di già lasciato me da chi lato uno è smith, mid arrivano, due colonne è ammazzato e c'è un altro, c'è verbed eccolo, l'hai visto? chi è sui sacchi? io, io siamo mazzalo però che che ha visto? madonna te! ma poi è schifo poi è schifo e' qui a destra qui, ero portici ero portici lì, ero lì ho sentito? dietro e' la eh, cristo e' la maratona, cazzo dove anche era? no, no, con la bomba tutti due assoluti prezzo bella mette a palle, cazzo si, ne so, è un piano 6 no, non e' il gioco di merda quella bomba? si, ne gli lancia la stun, no? e poi esce per tirare un'altra stun invece di sparare per che cazzo ne sapevo che lui s'ha alzato? e' uscito fuori il simbolo dell'hit? si, va bene si, va bene valla qui a racconto un po' come e' la così, non ho sbaglio ciao ma che culo guardimi, guardi, guardi ha preso? si, si, tu guarda di dietro ha preso quale mid? ha preso quale mid? ha preso qua, è su qua due sono dove c'è la discesa sono io qua, va? occhio 1, 2 lungo B last lungo B lungo B sono molto matti lì preso, preso c'è la mia piccola sniper si torna a ruolo bravo guarda eh la colonna oh io provo a lasciarlo, mo' faccio un palo shot 1 uuuu add shot pitch add shot pitch noo noo, c'ha l'axo chi da tutto? ah ok, però si guarda la santa guarda la santa bella mister ciao mister ciao guarda, ho finito i colpi lo vedo dai screen dai screen porti 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 leslie ciao parco che mappa faranno loro? è solito è finita ragazzo dimmi venga ah no è troppoccato per sbaglio volevo chiudere il corso del porto ti odio stasera alle 9 facciamo la riunione attenzione va bene io non ci sono a quell'ora la fossa venga a che cazzo era ah ma ha visto la sua macchina ma che culo venga gordi oh mio dio come l'hai preso porca puttana ragazzi fatelo l'avete fatto il 172 ma cos'è la finiamo beh ah ma che cazzo è un'altra l'avete fatto il 172